Il compito che mi è stato affidato non è dei più semplici perché in qualche modo devo proseguire la discussione che è iniziata ieri pomeriggio con la relazione del Presidente, gli interventi sono stati, che proseguiranno questi interventi ulteriori con le personalità che abbiamo invitato questa mattina e nello stesso tempo dovrò cercare di introdurre quella che è la tavola rotonda di SBC, quindi dei Presidenti e dei Vicepresidenti. Quindi è una relazione che cercherà di affrontare questi due aspetti. Innanzitutto i primi punti che vorrei mettere in evidenza sono la situazione nella quale siamo e cosa stiamo cercando di fare, cioè ripartire da qui perché mi sembra il modo migliore per inquadrare il proseguo della discussione. La prima cosa da dire è che le risorse che abbiamo a disposizione come sistema bilaterale in questi 5-6 anni si sono dimezzate. Questo è il primo aspetto che credo dobbiamo mettere a fuoco perché le conseguenze di questa riduzione delle risorse a disposizione stanno determinando un problema diffuso nella sostenibilità del sistema bilaterale che abbiamo costruito e che abbiamo conosciuto e che vorremmo continuare ad avere nei modi che poi appunto saranno decisi. La seconda questione è che tipo di welfare abbiamo avuto e siamo riusciti a dare come sistema bilaterale e quello che potremmo riuscire a dare in prospettiva, che è una cosa molto interessante non solo ma fondamentale. Il terzo punto è se le idee di una nuova bilateralità che stiamo cercando di ricostruire e di contratti hanno in qualche modo segnato dei punti importanti. Quindi questa bilateralità a livello nazionale e territoriale che vogliamo ricostruire può consentire di liberare risorse aggiuntive a quelle attuali che sono ridotte per l'appunto. Perché è evidente che se noi riusciamo a fare un'operazione che mette insieme tutte le risorse per i vari capitoli ovviamente di spesa che abbiamo a disposizione questo può portare dei vantaggi e quindi può in qualche modo contribuire a dare le risposte di cui abbiamo bisogno. Queste risorse aggiuntive potrebbero determinarsi da una riorganizzazione appunto come possono essere utilizzate in prestazioni anche nuove di welfare. L'ultimo punto come premessa è come noi in questo momento, guardando, lo ripeto, sempre alla prospettiva, come possiamo riuscire a tutelare la specificità dell'edilizia e quindi come noi possiamo riuscire a far pesare in modo maggiore il settore dell'edilizia verso il governo e verso il Parlamento rispetto ai provvedimenti che vengono presi. Il compito appunto di questo seminario è quello attraverso la discussione, attraverso il confronto di riuscire a portare un contributo e a dare un contributo ai soggetti, in modo particolare alle parti sociali che ne hanno la responsabilità per poter in qualche modo prendere le decisioni migliori. Ieri sera appunto il Presidente ha fatto, introducendo i lavori, ha fatto una relazione che è partita anche nella sua relazione dagli elementi della realtà e poi ha tracciato, ha fornito uno scenario dello Stato Sociale a livello europeo che può rappresentare da questo punto di vista anche un percorso che possiamo fare anche noi nel nostro Paese. Soffermandosi appunto il Presidente su questi aspetti con delle valutazioni che sono ampiamente condivisibili, anche io ci tornerò alla fine di questa introduzione. Dopodiché appunto io devo cercare di introdurre anche il tema della tavola rotonda con i Presidenti e i Vice Presidenti di Formedil e CNCPT che caratterizzano la parte finale di questa giornata. Io credo che sia molto opportuno ascoltare dai Presidenti e dai Vice Presidenti il loro punto di vista, quindi fare questo confronto, capire quali sono le convergenze o le possibili anche differenze da colmare perché siamo ormai a un percorso che è avviato da molti mesi, da un anno e mezzo e anche ancora non riesce a produrre dei risultati magari che vorremmo. Del resto siamo alla vigilia di scelte importanti, alcune le abbiamo già fatte e che lasceranno il segno per i prossimi decenni e quindi abbiamo ritenuto giusto ascoltare appunto le opinioni di coloro che oggi hanno le massime responsabilità nella gestione degli enti nazionali. Anche perché, e questo lo sappiamo benissimo, nei territori quando si parla di come riorganizzarsi sulla base di quello che è stato detto e scritto nei contratti nazionali c'è molta attesa e l'attesa, cioè tutti guardano a Roma, tutti guardano a cosa succede con l'SBC, sulla base di quello che succede con l'SBC allora è come se si aspettasse in qualche modo questo incipit per cominciare a fare una marcia un po' più spedita. Per cui l'auspicio di questo seminario, quando l'abbiamo pensato, è anche quello di vedere se si riesce a dare un impulso alle scelte che dovranno essere fatte anche nei territori. infine su questo aspetto voglio, come dire, togliere qualunque imbarazzo perché le scelte, quelle vere, quelle definitive, sono le parti sociali che le devono fare ed è una prerogativa esclusiva delle parti sociali. Quindi io farò degli schemi di ragionamento che potranno, come dire, essere utili se si riterrà opportuno sia a livello nazionale che a livello territoriale. È vero, come dire, anche qui siamo tutti un po' in ritardo rispetto alla scaletta di marcia, i tempi che erano previsti anche dal contratto nazionale, ma visti i cambiamenti, viste le novità, visti i cambiamenti, anche questa specie di ritardo si poteva tranquillamente essere messa nel conto. e per quanto riguarda SBC me la potrei cavare in questo modo, io molto velocemente la potrei concludere in una parola, siamo in attesa che le parti nazionali decidano esattamente cosa fare. Punto. Questo è perché il contratto indica dei percorsi e poi dobbiamo decidere come si traducono in scelte concrete. Tutti noi a ogni livello ci siamo sforzati in questo percorso, il modello che abbiamo conosciuto della bilateralità a livello territoriale non sta reggendo più e la crisi rende più drammatiche le condizioni nelle quali dobbiamo operare, ma le ragioni di mettere le mani ad una profonda riorganizzazione e razionalizzazione del modello contrattuale e del modello bilaterale che ne discende sono anche altre. Ragioni che derivano, a mio avviso, in primo luogo dalle trasformazioni dei processi produttivi e del modo di lavorare, delle innovazioni tecnologiche, delle modifiche normative e istituzionali. Quindi siamo di fronte ad uno scenario che è cambiato e che sta cambiando e tutti questi cambiamenti hanno determinato un vero e proprio terremoto nella rappresentanza sociale. Cioè è cambiata l'impresa, è cambiata l'organizzazione del lavoro, è cambiato il cantiere che è il nostro luogo di produzione. Mentre ancora non riusciamo a incidere in maniera significativa su quelle che sono le forme di lavoro grigio e lavoro nero che tornano addirittura a crescere in questa situazione come risposta anche alla crisi. Fra l'altro si avverte anche un fenomeno che è quello che all'interno del cantiere appunto il contratto dell'edilizia viene applicato in maniera decrescente a vantaggio di altri contratti meno onerosi per l'impresa e meno vantaggiosi anche per i lavoratori. E quindi nel percorso di riorganizzazione degli enti bilaterali indicato dai contratti nazionali la vera difficoltà che a mio avviso abbiamo ancora da superare non è tanto legata a aspetti tecnici di una soluzione o di un'altra quanto al riconoscimento dei nuovi equilibri che si sono determinati nelle diverse rappresentanze in modo trasversale questo riguarda il mondo imprenditoriale e riguarda anche il mondo nostro perché in questi anni tutti abbiamo perso rappresentanza c'è anche questo elemento tutti rappresentiamo meno e questo ci mette in qualche modo in difficoltà quindi io credo che questo sia il vero nodo politico che dobbiamo sciogliere che è una prerogativa esclusiva delle parti sociali questa ad iniziare da quella da quella nazionale non c'è dubbio anche che nella nostra storia la storia appunto di questa categoria è che in molte circostanze è partita dal territorio la risposta ai problemi non sempre è partita dal nazionale questo per spezzare una lancia a chi si attende tutto da Roma forse delle innovazioni e delle risposte possano arrivare anche dal territorio e credo che l'occasione dei rinnovi dei contratti integrativi possa rappresentare un terreno utile per verificare se ci sono queste possibilità di dare delle risposte ai problemi occorre infine pensare in conseguenza di quello ho cercato di dire occorre pensare ad un sistema bilaterale costituito e partecipato da una governance di tutte le parti sociali un sistema bilaterale inclusivo che riconosce ed applica tutti i contratti dell'edilizia sia nazionali che territoriali un sistema bilaterale sostenibile con regole chiare e certe a partire dall'attuazione e dall'applicazione degli statuti e dei regolamenti interni che devono essere omogenei a quello tipo e funzionali in grado quindi di dare le risposte ora le parti sociali in modo particolare quelli nazionali hanno chiaro quali sono le questioni su cui agire ad iniziare dall'attuazione dei contratti nazionali sottoscritti da 18 mesi a questa parte una stagione che è stata difficile per tutti e la conferma sta nel fatto che ancora proseguono gli sforzi per rendere applicabile e dare piena efficacia a quei contenuti perché le soluzioni che dobbiamo praticare devono essere soluzioni univoche ci sono degli esempi clamorosi tipo l'ape è difficile pensare ci siano due modalità distinte di gestire l'ape cioè fare un passo indietro di vent'anni o di trenta diventa impossibile da gestire poi alla fine concretamente e quindi ci auguriamo veramente che quella che abbiamo alle spalle sia stata un'esperienza contrattuale da non ripetere e che si trovino percorsi adeguati io mi permetto di dirlo per arrivare ad un solo contratto nazionale dell'edilizia che tenga conto di tutte le specificità che tenga conto di tutte le differenze ma che in qualche modo ricomponga questo comparto e a tanti contratti integrativi territoriali che siano sottoscritti appunto da tutte le forze che sono in campo questo dovrebbe essere un terreno nuovo sul cui confrontarsi per andare ad una ricomposizione anche della bilateralità perché è una convinzione profonda questa fino a quando come dire il modello contrattuale presenza delle forti differenze è difficile pensare ad avere un sistema bilaterale che riesca a superare queste differenze veramente difficile e veramente complicato quindi come si diceva anche ieri gli dicevano autorevoli come dire personalità che hanno passato una vita a studiare quello che noi abbiamo fatto la matrice della nostra bilateralità è una matrice contrattuale quindi l'origine delle difficoltà o delle potenzialità sta nella gestione come dire della materia appunto contrattuale quindi bisogna avere un progetto forte lungimirante che ci porti a giocare le partite che abbiamo da giocare non davanti alla porta della propria casa ma negli spazi più ampi della società o della politica cioè noi non siamo a giocare in questo momento una partita qualsiasi di un torneo dei rioni noi siamo a giocare una partita nazionale gioca la nazionale da questo punto di vista e stiamo giocando partite strategiche per le prospettive e per il peso specifico del settore edile in questo paese dobbiamo alzare un po' lo sguardo anche questo lo diceva ieri il presidente dobbiamo ragionare quando diceva anche di guardare lontano dobbiamo ragionare alzare lo sguardo se non vogliamo fare è brutto quello che io ma se non vogliamo fare la fine dei polli di renzo che mentre era dentro il sacco se le davano fra di loro andavano tutta alla stessa conclusione ed i governi compreso questo sulle nostre divisioni ci marciano basta pensare a cosa sta capitando ai fondi pensioni contrattuali si dice di ampliarli potenziarli poi si prendono provvedimenti e vanno nella direzione opposta poi magari si pensa come utilizzare le risorse che ci sono ma si perde di vista che sono risparmi previdenziali non è che sono un'altra cosa quindi va fatto tutti i passaggi ma con equilibrio sapendo di dover dare delle risposte alle necessità degli investimenti ma dare le risposte anche ai lavoratori perché hanno fatto questa scelta perché li abbiamo convinti di farla c'è anche questo di tema o basta pensare a cosa sta succedendo al nostro DURC nostro fra virgolette mandato in pensione anticipata senza troppe resistenze o rimpianti perché non c'è stato grandi ci sono stati grandi allora se veramente vogliamo ottenere anche questo è un altro argomento che si pratica molto nelle nostre discussioni se vogliamo veramente ottenere dei risultati certi sull'abbassamento dei costi che sostiene il settore dell'edilizia rispetto ad altri che ci fanno concorrenza anche negli appalti e nel cantiere dobbiamo essere più uniti questa è la risposta che credo sia da percorrere da perseguire dobbiamo quindi far pesare l'intero settore edile per quello che pesa nell'economia per quello che pesano i pill di questo paese cosa invece noi troppe volte non riusciamo a fare per questo sono necessari probabilmente anche degli approfondimenti dei momenti di confronto per trovare le sintesi necessarie che ci consentono di rappresentare al meglio questo settore dell'edilizia che è ancora un settore nonostante la crisi fondamentale per il paese fondamentale e credo che questa sia la scommessa che abbiamo di fronte che ancora non siamo riusciti a vincere gli esempi sarebbero tantissimi non voglio fare un altro che riguarda la formazione cioè noi abbiamo una formazione nel settore attraverso gli enti bilaterali attraverso le scuole di lì coordinate ai formaggi che non ha paragoni nel nostro mondo non ha paragoni in Italia noi non siamo riusciti a farci capire a farci comprendere che avere il costo della formazione pagato alle imprese per sostenere quello che facciamo i corsi che facciamo con la bilateralità e continuare a pagare i contributi dei fondi imprese allo 0,30 non siamo riusciti a far capire questa contraddizione questo sbilanciamento e come dire per le imprese si tratta di un costo importante perché lo 0,30 è un costo importante pensate cosa potremmo fare se questo 0,30 potesse rientrare nel circuito o dell'abbattimento dei costi della formazione attuale o per poter fare anche altre cose è un esempio per dire che quando pensiamo alla riduzione dei costi fra virgolette non guardiamo soltanto alla riduzione dei costi contrattuali guardiamo a quelle che possano essere le riduzioni dei costi più complessive che in qualche modo anche le norme le leggi dello Stato ci mettono perché appunto se vogliamo dare una mano al settore guardare in prospettiva cosa è possibile fare di meglio e di più noi bisogna guardare a 360 gradi anche questo aspetto e non concentrarsi soltanto sui costi diretti del contratto o della contrattazione per ritornare a dire dei territori noi abbiamo fatto anche come CNC come presidenza abbiamo fatto i consiglieri che erano in grado di partecipare un giro un po' in tutta Italia per capire come eravamo messi ma si potrebbe dividere in maniera schematica in tre grandi contenitori cosa si pensa cosa si guarda cosa si sta pensando di fare in alcuni territori sembra che le parti sociali e io ritorno alle parti sociali perché sono quelle che hanno in mano il pallino delle scelte da fare anche nei territori sembra che non avvertano la gravità della situazione che hanno di fronte che hanno da gestire probabilmente ci si culla un po' nell'idea che tranquillamente si può lasciare stare tutto così come è oggi perché tanto prima o poi la ripresa ci sarà e quindi tutto ritornerà come prima è un'idea che credo sia sufficientemente pericolosa visto lo stato in cui si vengono a trovare molte 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 casse molte scuole molti cpt nei vari territori c'è poi anche l'altro pezzo che è talmente ancora forte che è talmente ancora grande che ha ancora talmente riserve che tranquillamente dice meglio non fare niente perché tanto noi possiamo resistere per vent'anni da questo punto di vista c'è poi una maggioranza di territori dove la consapevolezza è cresciuta e si perché sono anche quelli più in difficoltà in qualche modo si cerca di trovare delle soluzioni ma come dire anche qui se si rimette insieme tre debolezze non è che si fa una forza quindi questo è il rischio se non si ha una visione complessiva anche da questo punto di vista il contratto ha dato delle indicazioni molto precise ha parlato di come riorganizzare la bilateralità su base regionale su base interprovinciale quello che è successo in questi mesi con maggiore evidenza è la riunificazione delle scuole di CPT questo è l'elemento che appare perché in quasi forse più della metà a questo punto dei territori l'operazione è stata fatta quindi un unico ente che tiene distinte e specifiche le due funzioni per poter continuare a lavorare e operare in maniera concreta ci sono stati altri segnali come l'accorpamento di alcune casse nello stesso territorio in Emilia Romagna c'è stata la costituzione di un'unica cassa regionale artigiana nel Veneto al posto delle due esistenti e in Lombardia dove proseguono gli sforzi una volta si fa un passone avanti posso ne fare mezzo indietro posso ne fare avanti per vedere di unificare quattro casse che ne avrebbero bisogno di essere unificate questo è lo scenario che abbiamo potuto verificare poi ovviamente e mi scuserete se non dirò tutto da questo punto di vista però ci sono molti sforzi ma non ci sono ancora risultati concreti questo è il punto dove siamo dove siamo oggi SBC a che punto siamo mi avvio alla fine di questa introduzione restano ancora un paio di nodi da sciogliere per essere ottimisti è stato risolto positivamente quello della sede una soluzione positiva anche se temporanea perché abbiamo ottenuto un abbattimento notevolissimo dei costi quindi passare da ridurre di due terzi il costo non è un'operazione banale sempre che non ci siano sorprese dall'attuale proprietà perché questo potrebbe in qualche modo farci ridurre quello che può essere in vantaggio iniziale i nodi da sciogliere quelli principali li vedo sono due di SBC e su questo mi piacerebbe appunto che confronto di poter sentire esattamente le presidenze il primo è quale assetto della struttura ci vogliamo dare stando attenti a non perdere con questa nuova struttura a non perdere in termini di risorse alcuni vantaggi economici per l'intero sistema formativo tramite il formaggio nazionale quindi occorre pensare e trovare una soluzione che ci consenta di continuare a intercettare e quindi a mantenere i finanziamenti pubblici oggi e domani possibili come lo sono stati nel passato perché sarebbe come dire una sciagura se mancano le risorse al settore se dove ce le abbiamo le perdiamo al danno si unisce anche la beffa quindi bisogna fare in modo di mantenere e anzi di rafforzare di ampliare se fosse possibile questo spazio il secondo nodo da sciogliere chi sono i soci fondanti di questa nuova di questo nuovo SBC cioè di questa nuova ripartenza perché si ragiona da qui io spero ai prossimi 50 anni noi riprogettiamo oggi un qualcosa che deve avere questa valenza non la valenza che termina domani mattina e quindi è una partita delicata sui piano politico me ne rendo perfettamente conto con risvolti che attengono anche al patrimonio che abbiamo e che deve essere come dire gestito quindi una scelta propriamente politica e le parti sociali come dire nell'avvicinarsi a questo momento dovranno trovare in modo di fare e quindi di sciogliere positivamente questo nodo l'altra questione che volevo dire su SBC è che deve essere un'operazione vera cioè un'operazione dove siano chiare le finalità le responsabilità le funzionalità e deve essere chiaro anche il risparmio effettivo dei costi cioè da tutti i territori sono a aspettarci su questo ecco lo strumento tecnico gli strumenti tecnici avendo sentito anche chi fa di mestiere queste come dire queste operazioni vive di queste operazioni gli strumenti ci sono sostanzialmente quindi si tratta si tratta di fare una scelta politica che consente di andare in questa direzione e chiudere questa partita e ricominciare sul serio al lavoro quindi le parti sociali ci stanno lavorando credo che sia un problema abbastanza impellente anche perché il contratto nazionale dava una scadenza molto ravvicinata io credo si sia veramente vicino sul fondo nazionale APE c'è un'intesa positiva proprio degli ultimi giorni che finalmente ricompone il quadro omogeneo del settore e a breve ci dovranno essere ulteriori passaggi ulteriori dettagli attuativi che dovranno consentire effettivamente di poter dire aver superato questo problema da come eravamo partiti un anno e mezzo fa e quindi credo sia giusto da questo punto di vista in maniera specifica fare un plauso alle parti sociali perché le difficoltà non sono state poche per raggiungere questo indirizzo e questa strada importante sulla previdenza integrativa rappresenta un po' le cose che abbiamo trasferito come competenza molto a livello nazionale da quelle che erano competenze degli enti territoriali sulla previdenza integrativa che è un pezzo di welfare la novità contrattuale degli 8 euro dopo un avvio un po' in sordina come di solito però caratterizza tutte le scelte innovative che facciamo questa novità sta cominciando a dispiegare i suoi effetti positivi gli ultimi dati poi il Presidente mi può correggere il Presidente che prevede mi può correggere le adesioni contrattuali sono arrivate a 392 mila e a questi vanno aggiunti poi i 40 mila iscritti a prevede si va a 430 mila complessive di queste 392 mila adesioni contrattuali per 260 mila sono arrivati anche i soldini cioè gli 8 euro o quello che sono manca ancora un terzo e quindi non è poco ma essendo partiti con i ritardi con tutti i problemi che sono stati io lo voglio valutare con un esempio positivo non una questione cioè due terzi essere arrivati i soldi è un buon un buon segnale la macchina è avviata ci sono dei problemi anche qui non voglio fare sarebbe lunga la lista sono dei problemi con le regioni che ha altri fondi come si fa come non si fa però insomma anche qui la direzione di marcia è segnata e le parti sociali stanno come dire cercando di risolvere i problemi che si stanno manifestando in corso d'opera sanità integrativa che questa è una bella partita delicata si sta lavorando delle ipotesi c'è stata commissione tecniche sono riunite i nodi principali anche qui ancora a definire sono a chi vanno le prestazioni cioè se si allarga la platea o se aumentano le prestazioni perché questo è una è una sorta di come dire di nodo appunto che va sciolto quale strumento ci dotiamo di quale strumento ci dotiamo ci dotiamo per poter realizzare questa previsione contrattuale perché ancora anche qui non è il contratto da due opzioni dobbiamo sciogliere il nodo e come dire restano da colmare delle differenze contrattuali da questo punto di vista e l'intesa raggiunta a Sufnape la voglio leggere come una volontà di voler convergere anche su questo punto io me lo me lo auguro un aspetto quello della sanità che dovrebbe essere gestito con grande attenzione rispetto al fondo nazionale e quello che potrà dare il fondo nazionale rispetto a quei territori che hanno prestazioni ben più elevate di quello che si prospetta con il fondo nazionale se non vogliamo avere anche da questo punto di vista un un contraccolpo perché come dire ai lavoratori i lavoratori delle imprese sanno che i fondi territoriali consentivano non omogeneamente in tutti i territori nazionali ma in alcuni punti il passo indietro potrebbe essere veramente difficile da digerire le ultime cose che voglio dire sono queste un dato positivo e di questo dato positivo tutti ne siamo contenti molti osservatori sostengono che siamo alla fine della crisi nei giorni scorsi proprio un convegno anche della FENEA la Cresme ha ripresentato i propri osservatori annuali di come vanno le cose e i dati molti dati indicano che siamo a un cambio di direzione cioè abbiamo smesso di calare di scendere e cominciamo a risalire ecco se leggiamo io spero di essere smentito e che i prossimi dati anche quelli nostri interni del MUT si allineino a quelli che dice i Cresme se leggiamo gli ultimi dati della CNC rilevata attraverso i MUT la ripresa c'è ma è una ripresa a doppia faccia nel senso che cresce il numero degli addetti per la prima volta dopo a livello nazionale cresce il numero degli addetti a livello nazionale un più 5% di fare ma diminuiscono le ore versate alle casse dili e diminuisce il monte salari di conseguenza qui c'è un punto interrogativo che bisogna rispondere per capire cosa sta succedendo perché ovviamente all'aumento del numero dei dipendenti dovrebbe aumentare anche il monte ore e di conseguenza la massa salari quindi interroghiamoci che cosa vuol dire quindi anche le casse qui possono andare a vedere un po' meglio più da vicino cosa sta succedendo intanto sarebbe necessario avere degli strumenti adeguati e non fittizi per il controllo della regolarità della trasparenza e della sicurezza questioni che ci risulta non vengano e non saranno risolte dalle nuove procedure sulle assegnazioni dei lavori e degli appalti perché da questo punto di vista c'è molto fumo cioè si dicono molte cose ma poi in realtà è difficile come dire arrivare veramente a comprendere quello che succede finisco veramente con tre questioni banali cioè non è possibile che nel 2015 non si riesca ad avere non si possono consultare i dati di tutte le cassa edili noi abbiamo un osservatorio che si ferma a 88 cassa edili su 117 quindi 30 cassa edili restano fuori io credo che questa è una cosa inaccettabile così come ci sono cassa edili che insistono nel non mandare alla CNCE come prevedono i contratti alla CNCE e alle parti nazionali prevedono i contratti i bilanci una volta che sono state approvate ovviamente oppure la mancata comunicazione dei dipendenti e le collaborazioni anche così sono cose ora se è il problema è tecnico ci stiamo attrezzando per risolverlo e probabilmente si riuscirà a raggiungere la quadri totalità delle case se è un problema tecnico ovviamente se è politico bisognerà agire su altri versanti perché non è che lo strumento tecnico si può utilizzare se c'è la volontà di conoscere e di far utilizzare questi dati finisco su queste tre cose che sono minimali rispetto ai problemi che abbiamo però la riflessione che voglio fare è questa qui siccome si sta parlando di dare sempre più compiti a SPC o agli enti nazionali compiti importanti compiti di gestione come veniva ricordato anche ieri di gestione di partite fondamentali dove ci sono anche le risorse io credo che non si possa rimanere fermi davanti a una porta che è quella che dice non abbiamo le conoscenze di nostro mondo francamente capisco c'è qualcosa che non torna che va ovviamente ovviamente superato perché lo ripeto di mezzo ne va la nostra credibilità alla fine questo mi pare evidente questo è il quadro delle questioni secondo me abbiamo da affrontare c'è tanto da lavorare ma appunto non ci manca né l'ottimismo per utilizzare parafrasi né la volontà per andare per andare avanti guardare lontano diceva il presidente ieri a conclusione e dopo aver guardato lontano guardare ancora più lontano io lo condivido appieno sapendo però che la realtà se la vogliamo cambiare dobbiamo conoscerla e dobbiamo partire da quella non possiamo partire dalla realtà che ci si immagina dobbiamo partire dalla realtà concreta questo è il giorno delle scelte il giorno inteso come fase noi siamo a un cambio di fase storica per l'edilizia e quindi cosa portiamo in questo nuovo progetto dall'SBC agli enti bilaterali riorganizzati nei territori cosa ci portiamo e invece cosa lasciamo fuori cosa ci lasciamo alle spalle queste sono le scelte che abbiamo di fronte che sono scelte pesanti ma sono scelte importanti e scelte necessarie che dobbiamo fare nell'interesse di chi vogliamo ancora rappresentare le imprese e i lavoratori grazie